Amici ed amiche di Frateranza dell'Azzurra benvenuti o bentornati sul canale Allora ragazzi, prima di tutto un ringraziamento per la live di ieri di chi è stato presente chi ci ha fatto domande, chi ha interagito con noi che è la cosa che a me a per piace più di tutte anche sotto i video come vedete cerchiamo di rispondere tempestivamente a tutti i commenti e durante le live, anche se l'argomento magari che volevamo trattare era diverso ci adattiamo fra virgolette a quelle che sono le vostre domande perché questo è il bello di Youtube ringraziamo anche chi si è iscritto al canale e condividete il nostro canale con i vostri amici se vi piace come trattiamo gli argomenti perché sapete benissimo che il primo obiettivo che abbiamo io e Pier è di raggiungere i 500 iscritti non ci interessa per monetizzare, guadagnare e tutto il resto perché come ben sapete per me e lui è una passione e è il bello di poter parlare con altri interisti mettendoci la faccia, il nome per parlare della nostra Inter per difenderla se necessario e per criticarla perché magari arriverà anche il momento in cui andrà criticata una critica l'abbiamo mossa ieri però è giustificabile il motivo che non ci sia ovvero la mancanza dell'Under 23 è giustificabile perché come vi dicevo già io quando si parlava del problema OCTRI e non OCTRI un cambio societario a maggio tarpa le ali ha tante possibilità di piccoli investimenti perché se è vero che la rosa la devi mantenere competitiva però altre forme di investimento quando arrivi a maggio è un po' tardi per farlo tipo l'Under 23 appunto dove devi aver già fatto tutte le richieste tutte le iscrizioni e tutto il resto sul discorso Lega Pro e poi devi metterti lì a aspettare che qualcuno non si iscriva per poter prenderti il posto e speriamo nel prossimo anno perché come si diceva ieri analizzando con Pierre quelli che sono i prospetti di rientro in casa Inter e che magari ancora non vogliono essere aggregati alla prima scuola e quindi bruciati l'Under 23 potrebbe essere molto 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 utile perché non sei più a giocare con parietà ma sei a giocare con persone più adulte più scafate, più esperte che magari sanno anche metterti più in difficoltà è lì che si vede se un giocatore è maturo per il salto di qualità o meno e al di là dell'estero le strisce pedonali hanno dimostrato la quasi indispensabilità della squadra della squadra Under 23 quindi speriamo il prossimo anno anche perché come si faceva ieri la lista con Pierre l'avessimo potuta fare quest'anno avremmo presentato una squadra che si sarebbe messa in luce molto 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 bene secondo noi c'è dei gran prospetti ragazzi nei giovanotti dell'Inter e andarli a dare in prestito è utile vendere il collare compra è oneroso però è indispensabile sotto certe figure però alcune vedi ad esempio Valentin Carboni non puoi a prescindere che io un giocatore come Carboni lo aggregherei alla prima squadra e lo farei pure a giocare però vabbè si sa che ci sono altre visioni di gioco da parte del mister che Carboni dovrebbe rimettersi in gioco però un ragazzo di 20 anni come diceva ben ieri Pierre potrebbe anche reinventarsi magari scalando un attimo indietro e da trequartista passare a fare il regista visto che i piedi ce l'hai buoni visto che la visione di gioco ce l'hai perché se no trequartista non lo faresti scusate ma la tosse non mi abbandona e quindi magari potrebbe essere quei prospetti da buttare su una mischia però ci vuol coraggio da parte dello staff e del mister e ci vuol pazienza da parte del tifoso la pazienza che sta dimostrando essere utile anche il nostro management perché notizia di ieri joseph martinez è pronto a firmare sembra ci si manchi solamente lo scambio dei documenti per romane ma sia già tutto fatto con il genoa con 14-15 milioni di parte fissa più bonus ora io so che Pier preferiva e posso anche arrivare a capirlo però martinez è un portiere che conosce il nostro campionato è un portiere pronto è un portiere che come si arriva dalla cantera del Barcellona è un portiere che ha attraversato i suoi momenti di difficoltà l'anno scorso in serie B con il Genoa quando aveva perso la titolarità e si è andata a ricostruire e è un portiere che quest'anno volente o nolente ha messo a segno ben 8 clean sheet e scusate ma 8 clean sheet con una squadra come il Genoa valgono molti 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 più clean sheet con una squadra come potrebbe essere l'Inter visto che la difesa del Genoa sicuramente non è la difesa dell'Inter quindi diamo non ancora il benvenuto ma possiamo dire che è stato un ottimo colpo della dirigenza è stato un colpo che fa capire che al di là di Zilischi e Taremi la squadra non è ancora finita di costruire ci sono altri colpi in in canna perché si parla che nella seconda settimana di luglio potrebbe esserci l'incontro definitivo per portare quando non sono all'Inter però la cosa che voglio arrivadire e non per andare sempre a parlare degli altri perché come abbiamo fatto in live siamo molto contenti e pierdi di aver abbandonato tutti quelli che sono gli strascichi societari anche se chiudo il video con una cosa che mi ha chiesto Simo ieri per cercare di specificarla meglio ma che riusciamo a parlare di calcio giocato o comunque sia di calcio mercato perché sinceramente ci eravamo un po' stancati di fare i calcolatori piuttosto che i tifosi e quindi vi dicevo dovrebbe esserci la chiusura per cui non sono e caso strano l'Inter ha a prescindere da quello che viene detto che con Zang piuttosto che senza Zang non c'era un problema non c'era la possibilità di progettare progettare il calcio mercato mi sembra che sia l'unica squadra che ha già ben chiaro quelle che sono le sue necessità che cerca di anticipare i colpi con i parametri zero che sono a disposizione e dall'altra parte invece si parte da Zilze e si arriva a Lukaku partendo da Sasko che poi alla fine in Italia non verrà mai e quindi mi sembra che dalle altre parti sono quelle accozzaglie dove hai l'obiettivo A l'obiettivo B l'obiettivo C e Mr. X l'Inter quando ultimamente cerca un giocatore lo cerca sotto traccia e poi lo chiude quindi speriamo di continuare così ci sono ancora due mesi che sono tanti e sono lunghi e restaremo a vedere quello che finirà di fare la nostra diligenza sotto l'aspetto societario che poi non è societario sotto l'aspetto economico finanziario dell'Inter l'aspetto societario ormai abbiamo OCTRI punto e stop non c'è altro da dire mi era stato fatto notare in effetti così che all'interno del CdA dell'Inter è entrato uno dei responsabili del settore bond di OCTRI e ieri Simo in live mi chiedeva appunto che cosa ne pensavo del fatto che OCTRI fosse uno dei sottoscrittori del bond emesso da Intermedia House in scadenza nel 2027 allora prima di tutto vi ricordo che i sottoscrittori del bond avevano la possibilità al momento del cambio societario di chiedere la restituzione immediata del bond e ovviamente questo sarebbe avvenuto solo ed esclusivamente nel caso di un passaggio proprietà dove che l'acquirente non fosse una persona che è solvibile o che dà garanzie a chi gli ha prestato i soldi ovviamente il termine è scaduto nessuno ha esercitato l'opzione e quindi si va al 2027 d'altro lato quello che mi è stato detto dice ma OCTRI fa parte del sì ragazzi OCTRI è nei suoi tanti aspetti societari è anche una società di collocamento di prestiti obbligazionari emessi da aziende private piuttosto che società di investimento quindi tipo fondo comuno investimento chiamiamolo così alla vecchia maniera e quindi sì OCTRI ha acquistato parte del bond emesso in Intermedia House ma OCTRI l'ha anche rivenduto fra virgolette perché non è che non rivende ai suoi sottoscrittori perché quando una persona va a sottoscrivere un fondo comuno investimento prende una quota di un fondo che ha determinati investimenti quindi OCTRI non è che può dire sì io ho 70 milioni del bond emesso a Intermedia House quindi Intermedia House deve solo rimborsare 400 perché 70 sono in casa non è così che funziona perché ovviamente quei 70 che devono essere rimborsati da chi ha emesso il bond sono soldi che OCTRI deve comunque sia riconoscere a persone terze e questo vale per OCTRI come sarebbe valso per Pinco come sarebbe valso per tutte quelle società di investimento che hanno acquisito una parte di quel bond quindi non c'è possibilità di fare compensazioni Intermedia House nel 2027 dovrà rimborsare questi soldi che in parte sono stati girati all'Inter e che quindi che l'Inter dovrà rimborsare a Intermedia House ragazzi un buon giovedì a tutti un sempre e solo grandissimo Forza Inter come diciamo sempre a fine di ogni video e vi ricordo che poi ve lo metto anche in descrizione che abbiamo aperto il canale Instagram il canale Instagram dove stiamo iniziando un po' a lavoricchiarci se io che Pier con storie con qualche post quindi iscrivetevi anche a quel canale l'Inter perché tutte le notizie di YouTube finiranno di là e viceversa più stiamo cercando delle collaborazioni su Instagram e quindi più siamo e più magari troviamo persone che possono venire con noi in live piuttosto che possono darci qualche informazione da studiare insieme a voi ragazzi buona giornata e ci aggiorniamo domani con il solito video quotidiano